Allora a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Loki01 e oggi giochiamo di uno suminecrafto Quest'oggi continueremo un progetto che avevo iniziato sette secoli fa Ovvero abbellire questa specie di vulcano che una volta era una semplice collina e adesso è diventata una montagna artificiale Una collina in cui abbiamo il nostro magazzino Che non uso mai perché per un semplice motivo perché ogni volta mi dispiace che non l'ho continuato Ma ora che abbiamo le cose cosose per abbellire tutto il quanto lo possiamo fare E come abbiamo fatto per la piccolina cavernina che abbiamo lì faremo una cosa del genere Non uguale identico perché sarebbe molto facile fare le cose identiche spiaccicate sette miliardi volte No, mi piace variare un pochino quindi qui lasciamo tutte le cose che non ci servono Prendiamo un botto di mosso e contemporaneamente prendiamo un botto di nero hack E andiamo qui sopra perché questo non è soffitto è contro soffitto Perché qui se saliamo da questa piccolissima scalinetta fatta di grass Troviamo il vero soffitto e io che prevedo il futuro e sapevo che dovevo fare una cosa qui sopra Non ho spaccato tutto e ho fatto un piccolo soppalco Quasi era più semplice costruire in futuro Inizialmente l'idea era fare una cosa del genere Ma poiché qua dobbiamo costruire la piccola cavernina Mi è piaciuto quel contrasto mossi cobblestone, mossi globerry, liane, liane del nether Quest'oggi come ho detto faremo una cosa del genere Innanzitutto riempiamo tutto Tutta la nether hack non si deve vedere quasi nel suo blocco Tranne per queste zone di soul sand e soul soil In cui sopra al centro più o meno perché non sono cose precisissime C'è un alberello e poiché c'è un alberello Facciamo finita che qui ci siano delle radici Infatti se avete visto bene nella cesta lì sotto Ho farmato delle radici di mancarone Perché sono l'unico blocco di radici che abbiamo nel gioco Quindi come ho detto prima iniziamo ad Eppure un pochino la situazione con per ora i moss E visto che qua è più facile perché è un pochino più bassa la situazione Cominciamo da qua Ok dopo averci codato il primo badge di soul sand Prendiamo la nether hack di cui vi parlavo prima E cominciamo a fare una piccola collinetta al contrario Potevo farlo vuoto dentro ma ho tanta paura che Spawnassero i mob e questo noi non lo vogliamo Ma vogliamo che come vi stavo dicendo prima Non tutta la nether hack si vede perché Sopra come avete visto abbiamo fantasticato un pochino quando abbiamo costruito sto vulcano E abbiamo fatto finta che una parte del nether sia arrivato qui quando abbiamo costruito il portale E proprio perché abbiamo una parte del nether qui vogliamo delle ramificazioni Della nether hack perché non è preciso preciso il nether E quindi per esempio qui se vogliamo facciamo scelte dei strati di nether hack così Ma poiché c'è la vita in questo vulcano anche dove deve essere un pochino coperto questa nether hack Ci deve essere sempre quel vedi o non vedi che come ho detto piace un botto Ma poiché non mi piace tutta sta cosa dritta per dritta di moss Io ho formato anche della cobblestone moss Per differenziare leggermente le text della situazione Ma non la dobbiamo spammare tanto perché poi succede come la caverna Troppi colori troppe cose forse tornano un pochino la situazione Anche perché dobbiamo mettere le liane Dobbiamo mettere le globerry Che anche quelle danno un colore diverso Dobbiamo mettere le radici come ho detto prima E poiché non deve essere sottota sta zona ma deve essere tutta la zona Fatta in questa maniera potrebbe stonare un bel po' la questione Vedete già come sta prendendo forma la situazione Ok ora dobbiamo andare Andiamo a prendere le globale che vi dicevo prima Le liane che abbiamo anche sempre queste due ceste Ah queste ceste una volta erano piene di cobblestone Vi ricordo E ovviamente dobbiamo utilizzare queste per fare le particelle Perché come ho detto mi piacciono un botto Ma dobbiamo stare attenti perché quelli di Mojang non sono bravissimi a programmare E le particelle non le sanno fare minimamente Quindi per fare al sicuro non le dobbiamo sfumare Per eventuali colpi di lag estremi Perché potrebbero portare lag Queste non le ho usate nel mio mondo in creati in cui provo le cose Però potrebbe... Oh bello! È vero perché siamo in una savana Quindi le liane non sono verdi come il moschio Bellissimo sto... Sto colore Ci sta! E un altro blocco che non avevo... Che non ho preso Ma spero che ci sia qui È il magma block Dai! E meno male che sono un taccagno di merda Metto tutto da parte Anche qui come la netherrack Non ci deve essere così tanto Anche perché rispetto agli altri colori che sono scuri Questo da luce È meglio che non si veda neanche questo così tanto spesso E così forse per la prima zona fatta di soul sand Potrebbe andare bene Vedete quell'altro piccolissimo dettaglio Sempre di natura Che a noi piace Ho fermato di nuovo questi blocchi Come avete visto Le leves di azale Che secondo me Fa quel dettaglio carino Per non vedere sempre la texture verde precisa del mosso Possiamo fare che scende così Però sempre non esagerare Random Ma non tanto Perché deve essere pensata La questione E questa cosa La vorrei cercare di fare Per tutta il vulcano Per tutto il soffitto del vulcano Diciamo Tranne nei luoghi in cui c'è la torcia Perché qui vedete c'è il tronco Qui ci resta un piccolo dettaglio Che quando ho visto da sotto la situazione Ho detto Ci sta Perché questo è un vulcano E come la maggior parte dei vulcani attivi C'è il magma Ci sono colate di magma Lava eccetera eccetera Perché qui non ce ne sono Infatti dove c'è la torcia Vorrei fare una piccola colata di lava Dritta per dritta Ma che secondo me Come ho detto prima E' quel piccolo dettaglio Che potrebbe abbellire di un botto la situazione Quindi come abbiamo fatto prima Riempiamo tutto di moss Tranne la zona di soul sand In cui faremo quella piccola collina Piccola collina Come questa Ma come ho detto prima Ci sarà il dettaglio della lava E dopo aver riempito di nuovo Di moss e moss cobblestone L'altra parte di netherrack Riempiamo di nuovo Come abbiamo fatto precedentemente Con la soul sand Anche qui di netherrack Netherrack perché Semplicemente è il blocco più facile da farmare E' anche utile per fare queste ramificazioni di netherrack Per far vedere che sta uscendo la parte di sopra Anche dal soffitto E dopo aver visto più o meno Come fare la situazione con le ramificazioni Ricopriamo tutto Tranne il buchino al centro Quello deve essere assolutamente vuoto Rimettiamo come abbiamo fatto prima Le globerry Le leaves normali Queste dobbiamo stare attenti a non usarle tutte Che poi è bello Cosa di queste globerry E che fanno pure luce Quindi Si collegano bene anche al magwa block Che fa anche lui luce Bellissimo questo dettaglio Che collega tutto Netherrack perché sopra c'è Il nostro bioma artificiale di nether Del nether Il moss perché stiamo In moschio Siamo una montagna Una caverna Le radici Le 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 liane Tutto Che si collega Mi piace un botto Quindi come abbiamo detto Vediamo qui Facciamo così Spacchiamo E questo è il blocco? Eccola sì Facciamo così E facciamo sta colata di lava Ma Poiché Non abbiamo La ghetta In realtà ce l'abbiamo qui sopra Una volta era un lago di acqua E poi lo trasformo anche il lago di lava Ma poiché non c'è la fonte infinita come l'acqua E se lo prendi poi abbruttisce Andiamo nel nether Vedete fa così Ora vediamo Abbiamo preso il buco perfetto O abbiamo mischilicato Perché se ho mischilicato possiamo morire anche Ok qui sì La cosa che mi chiedo è Tu prendi fuoco? Per ora no Poi vedremo cosa succederà in futuro Le linee normali Credo proprio di sì Ma noi per sicurezza le mettiamo Sperando che poi non faccia Collegamenti con le lips E con altre cose Non ci distrugge tutto ciò che abbiamo fatto in questo episodio Perché se accade Piangerei E non poco E ora Semplicemente devo replicare Questa cosa che abbiamo fatto qui Per tutta la cosa Quindi per voi saranno due secondi Ma per me sarà Un bel po' di tempo Per piazzare tutti questi blocchi Ci vediamo fra due secondi Ciao Cosa molto importante Che non vi ho detto Io In off camera Per farmare tutta quella Moss Che avete visto Ho Incentato La mia Zappa di netherite Così facevo così Sono ritornato per l'ennesima volta Nella nostra Lash Cave Che come avete visto qui Quando stavo cercando le cose Ho trovato altri diamanti Quindi che culo E visto che stiamo Li spacchettiamo Sono dieci diamanti Qui abbiamo fortuna tre Vediamo Quanti Ho fatto semplicemente Un per due Che Chifo non ci fa eh Io come avete visto Sto proseguendo Mette tutta la Moss E Ho finito Tutta la mos Che avevo nell'inventario Interessante Sapete che forse Devo ritornare Più e più volte In quella caverna Eh si Perché facendo sto pezzettino Ho consumato Boh set Sei stack Devo fare quello Ok con mezzo Quasi una cesta piena A questo l'avevo messo Già 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 l'avevo Previsto Una cosa del genere Che non mi sarebbe Basta Da tutta quella Quella mos E voilà Sta prendendo forma Tutta la situazione Qui Siamo arrivati A questo lato Abbiamo fatto Altre due collate Di lava Dovrebbe mancare Soltanto una Potrebbe essere qui Ma Cosa molto Molto importante Da dove ho preso Ispirazione Per fare questa cosa Vi ricordate Tanto tempo fa Quando proprio Abbiamo trovato La nostra Prima Lash Cave In cui l'ho Splorata E ho visto Il soffitto Della caverna Ecco E Lì ho detto Questa cosa Mi piace La vorrei fare Come soffitto Nella nostra caverna Che figata Questa cosa E' vero Ma vedendo così Potremmo fare Così Il tetto Del nostro vulcano Ecco Un'altra cosa Importantissima Da fare Che mi stavo Per scordare E qui Come vedete Abbiamo due Beacon Ma uno Non è completo Perché questo Ci dà già un boost Ma questo Ci serve Per haste E qui Ho messo da parte Un paio di cose Come per esempio Il blocco di smerado Così facciamo Un'altra cement Ah Quando ho rotto Questo Per spostarlo Mi ha dato L'Acement Il primo Quindi si è sbagato Per nostra Sfortuna Per nostra Fortuna No sfortuna Non ci dà nulla Forse Dobbiamo Ah no Aspetta Facciamo così Per sicurezza Spacchiamo Perché direi Dovebbe essere Un 9x9 Questo fatto di smerare Tutto il resto Fatto di Perro Qui 9 7 5 3 Ok Ok Dovamo Spaccare E qui Cosa molto Molto Importante Dobbiamo fare Ace E rigenerazione No dobbiamo fare Ace 2 Ah E quindi Per ora Per i ventordici Miliardi di cose Abbiamo l'acqua I tre beacon Lo shulkebox Che ci dà La habitazione Tutte le pozioni Tutto il resto La Witheros Di sotto E manca Sottanto Due mob Delfino E warden Dopo avervi Aggiornato Sulla questione Accimente finale Qui abbiamo Altri blocchi Da utilizzare Come Esporblossom Perché ancora Non li usati E non so dove mettere Perché c'è il rosa Già Ho detto Dobbiamo stare attenti Perché le particelle I signori di Mojang Non le sanno Programmare Per bene Non spammare Quei cosi Perché potrebbero Procurare Tanto Tanto Lago Ogni volta Che veniamo qui E poiché Io qui Per i nuovi Non sanno Che cosa vorrei fare Qui Vorrei fare Un Magazzino Automatico Quindi Già la redstone Farà laggare Un botto In mondo In sé per sé Figurati con queste particelle Sarà Sarà La figlia Del mondo Ma non è L'ultima cosa Che vorrei aggiungere Perché Belle le collate Di lava Ma Se le vediamo Dal basso Meh Infatti Vorrei fare Una piccolissima Cosa Buttiamo Tutto ciò Che non ci sarebbe Ora E vorrei andare A prendere Un pochino Di ferro Ferro Per quale motivo Perché ci serve un botto Di sbarre Per quale motivo Perché le collate di lava Le voglio circondare Con delle sbarre di ferro Così Uno Non ci fichiamo dentro E non rischiamo la morte E due Perché sono veramente Carine Come lo pensate Di utilizzare io E visto che stiamo Andiamo Qui dove dovrebbe stare Un pochino Di storno Ah qui Ecco E qui E qui Che c'erano Le frecce Lo ritrovate Finalmente Ci vediamo Anche questo Non credo che mi basteranno Quelle scalette Che abbiamo appena preso Vediamo lo stonecutter E ci facciamo Tutti Scalini Ce lo riprendiamo E lo piazziamo vicino In caso ci servirà Successivamente E cosa dobbiamo fare Con le scalette Dobbiamo fare Un piccolo perimetro Iniziale Sulla collata di lava E poi Successivamente Proprio per Vedere la protezione Come ho detto prima Dobbiamo mettere Le sbarre di ferro E questa cosa La dobbiamo fare Fino in aria Fino a quando Non arriviamo Sul soffitto Di questa cavernona Vulcano Collina artificiale Non so ancora Come chiamare Ah e ovviamente Voi direte Perché stavi facendo Una cosa che c'è Davanti proprio In mezzo In mezzo Alla farm Perché già avevo Intenzione di spostarla Tanto tempo fa E questo è un Buon motivo Per spostarla Nei prossimi video E fare anche Ah allora Stanno le capette Una struttura Proprio per Per questa farm Stare qui dentro Secondo me Non ha tanto senso Per questa farm E qui La domanda Viene spontanea Facciamo la stessa Identica cosa Ma al contrario Ovvero Facciamo una cosa Del genere E mettiamo Le sbarre Oppure Facciamo Mettiamo soltanto Le sbarre Perché Boh Ovviamente Questo collegamento Lo toglieremo Perché toglieremo Tutto il soppalco Quando avremo Finito al 100% La situazione Come per esempio Qui non ho messo più Moss Cobblestone Perché Ehi Sono lentissime Ste cose E poi che mi servono Sia per abbellire Così Per fare questo Per mettere Le diane Sia per fare O fare Questa parte Lo faccio In off camera Tanto È la Stessa Identica cosa Che vi ho fatto Vedere Per di qui Io qui Avevo farmato Anche queste cose Ma non so Se ci siano Bene Perché Come vediamo Qui dietro Qui sopra Io non ho Sottanto alberi Della netherworld Ma Ho alcuni alberi Come questo Un po' Un po' Dell'overworld E un pochino Del nether Vedete Questo Che ci sono Le oak leaves Il tronco Devo aggiungere Le magrovie Roots Sì Ma anche qui Aspetta Oh no Vedete L'effetto Fila qui Viene così E mi piace Un botto Lì Come ho detto Prima Non si vedrebbe Quella cosa Sieteci Tanti Già dettagli Piccolini E Tutto Verso Il verde Secondo me Potrebbe Stonare Siete Io volevo Fare una cosa Del genere Una cosa Storta Così Forse Smussare Gli angoli Per fare Una cosa Più carina Per ricollegare Sempre il fatto Che sopra Ci sono Gli alberi E c'è Un piccolo Spazio Fra il soffitto E sopra Della montagna Ci poteva stare Come idea Ma non so Che potrebbe Andare bene Ovviamente No Spammato Questo veramente Ci deve essere Pochissime volte Una cosa Ligere Perché Come ho detto Prima È tutto Verso il verde Questo colore Scuro Potrebbe Stonare Molto Molto Facilmente La situazione Vedete Già potrebbe Bastare Per questa Zona Ma come ho detto Prima Il resto Lo farò In off camera Perché ci vuole Tantissimo Tempo E credo Ci vorrà Un paio di giorni Per fare Tutto Quanto Dico Per questo Video È tutto Se vi sia Piaciuto Mettete Un grossissimo Mi piace Condividete A tutti I vostri Amichetti E bella